Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archivi Parla, è uscito tutto quanto i reveal con il blog apposito per la stagione 6 di MW2. Generalmente io ho smesso di fare questi video per quanto riguarda le introduzioni delle season e anche per dire le season reloaded, perché io personalmente non gioco a MW2 da veramente diverso tempo. Se ricordo me era molto preciso, ho fatto 3 partite durante la stagione 3 e da lì praticamente non ho più toccato il gioco. Ce l'ho comunque installato ma l'ovvio veramente di rado, giusto per controllare due cose e perché ogni tanto alcuni miei amici vengono a casa mia e mi chiedono fammi provare questo MW2 che voglio capire un attimo come funziona. Ci interessa invece a noi giocatori di zombie questa stagione 6 perché ritorna The Haunting, l'evento di Halloween, con anche lo zombie royale disponibile su Warzone in entrambe le mappe e quello già è una cosa molto interessante perché secondo alcuni leak che abbiamo visto già in precedenza e che adesso stanno tornando, dovrebbe esserci già l'IA degli zombie di COD 2024 e presumo a questo punto anche del COD di quest'anno disponibile in questo evento. Sia per gli zombie che siamo noi come veri e propri giocatori che ritornano in vita, ma penso che ci siano anche degli zombie controllati dall'intelligenza artificiale e una specie appunto di boss di cui già abbiamo parlato, ma appunto vediamo i dettagli. Io girerò il blog veramente molto molto velocemente perché le informazioni appunto sono circa sempre le stesse per queste season e per quanto le introduzioni siano davvero tante non è che siano di mio eccessivo interesse, per cui come sempre il blog è in descrizione e darò comunque un'occhiata e un overview molto molto veloce. Appunto questo è il lancio della stagione 6 che partirà il 27 di settembre e penso che qualche giorno prima come al solito ci sarà il preload, ma la season parte come sempre circa alle 6-7 di sera. Tutto quanto è collegato appunto a questo evento di The Haunting che comunque non è al lancio di season, bensì sarà in mid-season circa a metà di ottobre, mi sa che andrà o in concomitanza con la beta di MV3 o partirà appunto questo evento subito dopo la fine della beta per tutti quanti. Questa Operation Nightmare è collegata appunto agli zombie che hanno totalmente invaso qualunque mappa di Warzone e anche alcune mappe multiplayer. Infatti la coda principale è tantissimi le skin notturni o a tema per diverse mappe multiplayer e ovviamente le mappe di Warzone. Proprio riguardo l'evento The Haunting che appunto partirà il 17 di ottobre andrà a cambiare totalmente le mappe di Almazra e di Vodel. Questa Operation Nightmare per The Haunting quindi partirà in mid-season il 17 di ottobre e andrà a cambiare totalmente Almazra che appunto vediamo notturna e con le luci totalmente modificate. Questo evento ovviamente arriverà anche per la mappa Vondel che viene chiamata appunto Vondeld e appunto vediamo tutti quanti gli zombie che ci circondano. Non penso che questa sarà la skin degli zombie che vedremo in futuro per questo code e quello di Treyarch perché anche già per l'evento in passato le skin su Warzone erano totalmente diverse e fatte apposta comunque per essere controllate dai player. A parte quindi tutta la spiegazione della lore, questa modalità a tempo limitato per Almazra e Vondel ne arriva ancora una volta in mid-season va a riprendere tutte quante le esperienze passate per Zombie Royale e Rebirth of the Dead con anche tantissime aggiunte per cui i giocatori una volta morti non andranno nel Gulag ma si ritornaranno in vita come degli zombie e potranno quindi raccogliere delle siringhe e dopo un po' queste siringhe permetteranno di tornare in vita come giocatori veri e propri e andare avanti. Sembra però appunto che tutti quanti i giocatori che sono ancora in spettatore potrebbero tornare in vita in qualche modo in diretto sotto forma di zombie e qua vado a pensare che questi zombie siano controllati dall'intelligenza artificiale questo perché i giocatori che sono ancora in spettatore a meno che non vengano rianimati ovviamente non dovrebbero poter giocare a meno che non ci sia un respawn generale alla fine giusto per creare casino che comunque sarebbe interessante. Ritornano anche altre modalità viste già in Season 4 come Vondead Lockdown sempre appunto per la mappa Vondel ricordo che comunque tutte queste modalità sono a tempo limitato soltanto per questa Season ovviamente con questa Season l'aggiunta di tantissimi oggetti di equipaggiamento di armi e tanto altro. Alcuni di questi oggetti sono le Captured Souls Haunted Box Bloodseeker Grenade e Trick and Trick Jumpscare come al solito tantissimi oggetti che vengono aggiunti ogni singola Season e sono specifici dell'evento. A quanto pare The Haunting arriverà anche durante il mid-season su DMZ il che penso sia veramente interessante anche perché dopo tutto se le mappe di DMZ sono le stesse di Warzone è chiaro che possono riutilizzare gli stessi reskin e la stessa modalità però è ottimo far variare anche quello anche perché ricordiamo che teoricamente DMZ dopo la fine di MV2 e del suo supporto non penso che riceverà altri contenuti la sua evoluzione dopo tutto è lo zombie di quest'anno. Hanno poi mostrato quella che è la key art per questa Season ed è appunto ricollegata a Spawn anticipo che sì è collegata a Spawn perché è dove c'è il battle pass c'è il suo personaggio e le sue skin ma i bundle questa Season sono veramente qualcosa di folle ce ne sono stati veramente tanti nel corso dei Season precedenti tutti quanti su licenza ma questa volta secondo me hanno dato il tutto per tutto e tutto quello che vanno da parte l'hanno bruciato in questa Season e tra pochissimo comunque ci arriviamo. Sono disponibili come sempre altre mappe multiplayer due per la modalità base e due per Gunfight per la modalità base abbiamo la casa che arriva al lancio e seguito Coro Village che arriva direttamente al lancio. Per Gunfight abbiamo la mappa King disponibile fin da subito e anche la mappa Fight disponibile fin da subito. Arriveranno invece in mid-season alcuni reskin per delle mappe tra cui è l'asilo di cui vediamo anche una piccola immagine e vediamo in seguito anche Embassy che riceverà un piccolo cambiamento. Ci saranno anche dei twist con questo tema de-hunting per diverse modalità tra cui Dominion, uccisione confermata, Drop Zone e ovviamente anche Infetto in cui l'unico cambiamento è soltanto la skin degli infetti che saranno appunto degli zombie. Andando avanti ci sarà appunto spawn disponibile nel Battle Pass e il bundle invece di Black Cell per il Battle Pass contiene Valeria ma in versione praticamente robotica. Ci sarà poi una variante dell'evento Trophy Hunt già visto in Season 3 stavolta chiamato Soul Capture Event sempre appunto a tema con questo de-hunting. Saranno inoltre disponibili dei reward giornalieri anche soltanto per avviare il gioco. Presumo che siano delle piccole ricompense veramente minori non penso che metteranno cose veramente grosse soltanto ad accedere al gioco. In seguito tutte quante le ricompense e i cambiamenti di planabilità classificata che vi ricordo vale per MV2 e per Warzone quindi vediamo appunto qua tutte quante le possibili classificazioni e le possibili ricompense. L'arrivo come sempre di tante altre armi tra cui il TR-76 Jayst che è un fucile d'assalto disponibile al lancio nel Battle Pass. In seguito l'ISO 9mm che è una mitraglietta disponibile al lancio nel Battle Pass e anche le Dual Camas arma corpo a corpo disponibile al lancio nel Battle Pass. In seguito altra arma corpo a corpo è la motosega di Doom disponibile in mid-season presumo soltanto tramite bundle. Arriva poi dell'equipaggiamento posseduto ci dicono loro in mid-season per questo evento The Hunting tra cui la Sound Veil Scream e il Decoy Granade. Vediamo poi invece l'elenco di tutti quanti quelli che sono gli operatori e i bundle disponibili e come ho detto prima sono veramente tanti. Al Simmons è un operatore totalmente nuovo disponibile nel Battle Pass che appunto si sblocca istantaneamente una volta comprato ed è la versione umana di Spawn mentre teoricamente a livello 100 sarà disponibile la sua skin come tutti lo conosciamo. Altri operatori e skin disponibili sono Burn Spawn che è appunto una skin per Al Simmons il Creepy Clown il Violator il Disruptor il Soul Crusher Nicto Spawn e giusto per iniziare con tutte quante le licenze abbiamo Inarius e Lilith direttamente da Diablo collaborazione veramente facile dato che Actision Blizzard è un'unica azienda anche Skeletor che i meme si sprecano Ash Williams per Evil Dead e Alucard da Helsing. C'è poi questa skin Gaia e appunto come ho detto prima il bundle per Doom con Motosega e Super Shotgun. Vediamo inoltre gli ultimissimi prestigi per questo COD che arriveranno al prestigio 25 livello 1250. Per chi invece non è interessato a questi contenuti di MW2 ma quello che arriverà in seguito questa è quella che vediamo come roadmap per Call of Duty quindi il lancio della stagione 6 il 27 settembre dopodiché il Call of Duty Next il 5 ottobre e in seguito parte la beta inizialmente esclusiva su PlayStation poi disponibile per tutti quanti con anche il crossplay e appunto come immaginavo subito dopo l'evento in-game per The Hunting parte letteralmente il giorno dopo della beta. in seguito il 2 novembre ci sarà l'accesso anticipato alla campagna di MW3 per chi preordina il gioco e il lancio stesso di MW3 otto giorni dopo. Bene queste sono tutte le informazioni per questa stagione 6 di MW2 Warzone e in parte anche per MW3 come ho detto prima l'unica cosa che mi interessa è questo zombie royal che andrò a provare perché già in passato sul primo Warzone l'ho fatto e non mi dispiaceva sono giusto un attimo curioso di capirci qualcosa e vedere se veramente possiamo anticiparci qualche piccola informazione del prossimo zombie soltanto giocando a questo evento non credo tantissimo ma vale la pena provare voglio quindi ragazzi sapere tutte quante le vostre opinioni per quanto riguarda questa season se qualcuno di voi sta ancora giocando pesantemente MW2 Warzone o simili e come ho detto prima purtroppo ho smesso di giocare da diverso tempo ma può essere sicuramente un ottimo ritorno o breve o lungo che sia comunque tra poco inizierà anche la beta di MW3 e il lancio stesso del gioco e quello sicuramente mi interessa molto di più il video quindi di seconda è qui spero come sempre che vi sia utile e vi sia piaciuto tutte quante le informazioni e le fonti sono qui sotto in descrizione trovate se volete anche i miei social Instagram, Twitch e il canale Discord ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio ala